Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato a Minecraft. Oggi andremo a vedere le novità della snapshot 12v40a e 12v40b. Parliamo innanzitutto di due notizie, una buona ed una cattiva. La notizia buona è che gli sviluppatori hanno dichiarato di voler rilasciare la versione 1.4 ufficiale del gioco per il 24 di ottobre, anziché attendere Halloween. La notizia cattiva invece è, come avevamo anticipato nello scorso snapshot, che tutto il sistema di illuminazione che era stato rivisto è stato accantonato momentaneamente. Pertanto nella versione 1.4 ci ritroveremo i soliti bug sull'illuminazione, troveremo le zone oscure nella mappa, eccetera. Per poter vedere risolti completamente questi bug dovremo purtroppo attendere la versione 1.5. Una delle novità di questa snapshot riguarda l'introduzione delle abitazioni delle streghe. Avevamo letto in un tweet che queste abitazioni sarebbero state introdotte all'interno del biome della palude. Come vedete sono tipicamente delle palafitte che si trovano nell'acqua. Al loro interno troviamo un calderone e una crafting table. Evidentemente qui c'è ancora qualche bug, poiché i due oggetti si trovano sospesi nell'aria e non posati sul pavimento. Vediamo inoltre questa piccola decorazione formata da un vaso con un fungo. Francamente non ho capito una cosa di questa aggiunta, e cioè come faranno le povere streghe a raggiungere l'abitazione e soprattutto ad entrarci, visto che non ci sono delle scale per poter salire. Staremo a vedere se nelle prossime snapshot ci saranno delle altre aggiunte. Sto pensando per esempio delle particolari abilità che possono avere le streghe di potersi teletrasportare all'interno delle loro abitazioni. Staremo a vedere cosa si inventeranno gli sviluppatori. Nella snapshot sono state apportate delle piccole migliorie all'inventario. Ora ci troviamo in modalità creativa. Se andiamo nell'inventario dedicato alla modalità survival, possiamo semplicemente tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera e cliccando con il tasto sinistro del mouse, spostare i blocchi dalla nostra barra di selezione rapida all'inventario. Come sto facendo in questo momento. La seconda novità è che possiamo, posizionando il nostro puntatore su uno qualunque degli oggetti e premendo un tasto sulla tastiera da 1 a 9, copiare uno stack completo di questo oggetto all'interno della barra di selezione rapida. Per esempio prendiamo questo vetro, premiamo 1 e come vedete ci troviamo a 64 blocchi di vetro nella posizione 1. Proviamo con un altro blocco, per esempio prendiamo queste scale, facciamo 5 e come vedete abbiamo copiato a 64 scale la posizione 5. Questo funziona ovviamente con tutti gli oggetti che troviamo nell'inventario. Proviamo con questo a 9. Ovviamente gli oggetti che non si possono impilare vengono copiati singolarmente e non a stack di 64 o meno. L'ultima novità riguarda il fatto che se noi clicchiamo con il tasto centrale del mouse su uno o qualunque degli oggetti e non solo dei blocchi, lo andremo automaticamente ad inserire nella nostra barra di selezione rapida. Come vedete sto inserendo tutti i tipi di oggetti e di blocchi che ci sono nella mappa. Una piccola novità di questa snapshot riguarda il fatto che bottoni, porte, botole e leve ora si possono azionare solamente con il tasto destro del mouse. Come vedete le sto azionando. Se invece andiamo a utilizzare il tasto sinistro, semplicemente romperemo l'oggetto. Andiamo ora a vedere tre piccole novità. La prima riguarda la texture del beacon block che è stata nuovamente modificata. Anche il raggio che produce questo blocco è stato modificato. Come vedete ci sono delle piccole particelle all'interno del raggio che ruota ed è a forma diciamo di parallelepipedo. La seconda novità riguarda la propagazione del fuoco. Questa è stata leggermente modificata in modo che il fuoco non si propaghi all'infinito, per evitare ovviamente che brucino intere foreste o giungle. La terza novità riguarda il fatto che nel biome della palude con scarsa luminosità possano sponare delle slime. Questa direi che è una novità piuttosto interessante, poiché le slime prima si trovavano solo in particolari zone, per cui era piuttosto complicato recuperare le slime ball per poter craftare i pistoni appiccicosi. La prossima novità che andiamo a vedere riguarda il comando di teletrasporto. Se vi ricordate attraverso il comando slash tp potevamo specificare tre coordinate che indicavano appunto il punto dove veniva teletrasportato il nostro giocatore. La novità sta nel fatto che ora possiamo specificare un numero di blocchi relativo rispetto alla posizione in cui ci troviamo in questo momento. Facciamo un esempio, se io volessi spostarmi in avanti, quindi sull'asse della x di 50 blocchi, dobbiamo fare in questo modo, scriviamo slash tp, mettiamo il simbolo tilde, un più il numero di blocchi che vogliamo spostarci, quindi più 50 nel caso in cui vogliamo andare avanti, o meno 50 se vogliamo andare indietro, poi per esempio non vogliamo spostarci sull'asse delle y, quindi mettiamo più 0, e anche per la z non vogliamo modificarla. Se lancio questo comando, come vedete, ci spostiamo in avanti. Ovviamente, rilanciando il medesimo comando e mettendo meno 50, torneremo nella posizione di prima. Perfetto. L'unica cosa che non mi piace di questo comando è appunto il simbolo di tilde. Infatti, per noi italiani, la tastiera è leggermente diversa da quella americana, pertanto il simbolo di tilde non c'è nella tastiera. Per poterlo utilizzare, quindi, ho dovuto aprire il blocco note in Windows, scrivere questo simbolo di tilde, copiarlo, e a questo punto usare il comando incolla dentro in questa finestra per poterlo scrivere. Pertanto, spero che in futuro modificheranno il simbolo, poiché resta un po' difficile per alcuni tipi di tastiere doverlo utilizzare. Andiamo ora a vedere una serie di novità apportate al menu di customizzazione dei mondi superpiatti. La prima novità che andiamo a vedere è l'aggiunta di questo nuovo mondo predefinito, chiamato Redstone Reedy. Questo mondo è formato da 52 strati di sandstone, 3 di stone e 1 di bedrock. Il motivo per cui è stato chiamato Redstone Reedy, probabilmente deriva dal fatto che, sulla sandstone, il colore rosso della redstone si evidenzia in modo particolare. Pertanto, il mondo è indicato per essere utilizzato nella creazione di macchinari che utilizzano la redstone. Un'altra novità è l'aggiunta di quest'ultimo parametro nella stringa di creazione dei mondi superpiatti. Come vedete, qui vediamo scritto Village. Significa che nel mondo superpiatto ci sarà la possibilità di vedere dei villaggi. Chiaramente ci sono altri tipi di costruzioni o di oggetti che potremo aggiungere. Per esempio, nell'overworld ci saranno anche delle decorazioni, che sono praticamente gli alberi o i cespugli, dei dungeon, dei laghi, delle miniere abbandonate, dei laghi di lava e così via. Pertanto, questo rende molto più interessante la creazione del mondo superpiatto. Proviamo, per esempio, a creare questo mondo overworld. Facciamo Use Preset e creiamo il mondo. Ok. Eccoci all'interno del mondo che abbiamo appena creato e, come vedete, ci sono già delle evidenti differenze rispetto a quelli vecchi. Vediamo la presenza dell'erba alta, dei fiori, di alcuni laghetti e del villaggio. Chiaramente il tipo di strutture che possiamo aggiungere ai nostri mondi superpiatti sono parecchie, pertanto tutti i parametri che possiamo aggiungere li potete vedere sul Minecraft Wiki. Anche perché stare qui ad elencarveli tutti vi annoierei solamente. Se nel mondo superpiatto che abbiamo creato ci sono delle fortezze o delle stronghold, ora è possibile localizzarle utilizzando gli Ender Eye. Ecco una creazione piuttosto singolare per un mondo superpiatto, questa è una miniera abbandonata che non si trova sottoterra ma direttamente in cielo, poiché ho creato un mondo con pochissimi strati di terra, quindi non era possibile che si trovasse sottoterra. Come vedete le possibilità che sono date da questi nuovi parametri sono veramente molteplici e direi anche piuttosto interessanti. La prossima novità che andremo a vedere interesserà soprattutto ai creatori di Custom Map. Infatti attraverso l'utilizzo di programmi esterni al gioco, io per esempio ho utilizzato NBT Edit, è possibile modificare il nome e la descrizione degli oggetti che abbiamo nell'inventario o che troveremo nel gioco. Per esempio qui ho una spada di diamante che io ho chiamato Excalibur e gli ho dato una descrizione che dice Lucente Tagliente. In questo modo i creatori di Custom Map potranno personalizzare al meglio le loro mappe. Come sempre, oltre alle novità che vi ho elencato, in queste due snapshot sono stati fatti innumerevoli bug fix. Questo perché, come dicevo all'inizio, ci stiamo avvicinando alla release 1.4 ufficiale. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!